E buongiorno a tutti, a voi che ci seguite e buongiorno alla nostra ospite Sara Sullam. Ciao Sara. Sara Sullam è un ospite che già conosciamo, già abbiamo incontrato tempo addietro in un Bloomsday perché è professoressa di letteratura inglese all'Università di Studi di Milano, saggista, traduttrice, esperta dell'argomento che trattiamo noi qui da qualche annetto, quindi Joyce nella sua opera, ma soprattutto oggi voglio prendere spunto per parlare con lei utilizzando questo che è un suo libro, Leggere Wolf, uscito nel 2020 per Carocci Editore. Io leggerò alcuni passi interessanti che ho estratto da questo libro perché secondo me ci saranno molto utili per trovare dei punti d'incontro fra i due autori con cui poi con Sara avremo modo di approfondire. Per esempio io partirei subito da questo aspetto, qui si parla della Hogarth Press, la casetitrice dei coniugi Leonard e Virginia Woolf e leggo nel 1918 vengono contattati da Harriet Shaw Weaver, amica di Ezra Pound e soprattutto sponsor di James Joyce. In quell'anno i primi capitoli dell'Ulisse iniziarono a comparire su Little Review, una rivista d'avanguardia americana. I Wolf avevano già sentito parlare entusiasticamente di Joyce, da Thomas Elliot, ma Ulisse è troppo lungo e Virginia inoltre ha diverse riserve sull'irlandese, anche se sarebbe semplicissimo liquidare il suo giudizio, come spesso avviene, come negativo. Chiusa la citazione. E a questo punto era proprio quello che volevo chiederti, se puoi parlarci un po' di questo, anche per rompere un po' il ghiaccio, e sciogliere anche un po' queste semplificazioni che spesso vengono fatte sul giudizio di Virginia Woolf. Sì, nel senso che il vero problema è che ormai si è creato la Joyce Industry e la Woolf Industry, e quindi ci sono i joyciani e i wolfiani, le wolfiane e le joyciane, è come dire, è come se si facesse fatica a dire che questi due autori non per forza andavano d'accordissimo, però questo è un problema di noi che li guardiamo dall'oggi, per cui questi due autori vengono messi poi spesso anche in compagnia di Proust, all'interno di quello che, forse, come dire, visto da oggi, questo ha un senso, però all'interno di quello che è il romanzo modernista. Che Woolf avesse delle riserve su Joyce, su Lulisse, è vero. Diciamo che poi queste riserve vengono amplificate dai joyciani, facendone una colpa a Woolf, che è un'operazione, insomma, poco, e dall'altro, dalle wolfiane e i wolfiani, invece, come dire, è come se non si rassegnassero al fatto che, come dire, che a Woolf non sia piaciuto Joyce, e quindi è come se assumessero come dato e come ovvio il suo punto di vista. Io penso che bisogna lasciare aperta questa contraddizione, semplicemente Woolf apprezza molto Joyce, lo segue fin dall'inizio e lo segue fin dall'inizio, lo legge, lo legge con grande attenzione, lo legge sia sulla Little Review e poi ovviamente ha ben presente il volume, semplicemente non lo ritiene un titolo da inserire nel catalogo della sua allora ancora giovanissima casa editrice. Era comunque un libro ponderoso, era un libro che, come dire, le piace molto, ma, perché questo per me sì, cioè lei riconosce dei grandi meriti a Joyce, ma forse non abbastanza da poi impegnarsi in quella che sarebbe stata un'impresa titanica. Ecco, quanto a Joyce mi viene da dire che non ha mai avuto grande interesse per Virginia Woolf per la sua opera, poi Joyce è molto diverso da Woolf, cioè Woolf era una che per lavoro leggeva, cioè lei inizia a scrivere recensioni all'inizio anonime su diverse testate, Woolf ha proprio una consuetudine della lettura dei libri altrui che Joyce ha per sé e che poi non traduce per forza in un corpus di recensioni, un corpus saggistico, quindi c'è anche meno dato sapere che cosa Joyce pensasse di Woolf, nel senso se Woolf ha espresso pubblicamente alcune sue posizioni, perché appunto vediamo che parla di Joyce in diversi saggi, questo non avviene per Joyce, se contiamo i saggi di Joyce dedicati ad autori specifici sono pochissimi e quindi certo poi possiamo desumere qualcosa dalle sue lettere, ma è difficile poi fare veramente un'analisi comparata di quello che uno pensava dell'altro e l'altro pensava della sua collega londinese, stavano anche in due posti completamente diversi, cioè Woolf stava a Londra ed era certamente eccentrica, volutamente eccentrica rispetto a tutta una serie di ambienti che però conosceva benissimo, Joyce stava a Trieste, tra Trieste e poi Zurigo, Parigi, insomma la storia la conosciamo bene, anche lui volontariamente eccentrico rispetto a un ambiente e forse io penso che un punto, come dire, un punto prospettico per considerarne l'opera e per forse, come dire, non cercare di dire l'ultima parola sul giudizio che l'uno aveva dell'altra o l'una dell'altro è considerare proprio le loro posizioni diversamente eccentriche perché sono due, sicuramente sono due persone che scelgono di rivolgersi a, come dire, di collocarsi in una posizione non scontata e in una posizione non facile perché, va bene, si potrà dire che Virginia Woolf è nata, no, come lei stessa dice, in una famiglia di un certo tipo, eccetera, però fa alcune scelte ben precise e si colloca, diciamo, fuori dall'ambiente in cui sarebbe stato forse più facile per lei poi sviluppare alcune pratiche letterarie e questa eccentricità poi si traduce anche in alcune scelte proprio di poetica e nella rivolgersi a un pubblico che, guarda caso, sia il pubblico di Joyce che quello di Woolf sono ancora oggi popolatissimi e quindi è lo stesso Joyce cioè anche Joyce lascia Dublino e si colloca in una posizione eccentrica anche rispetto, per esempio, alla scena letteraria in questo caso di Dublino irlandese questo è stato a volte, come dire, è uno dei punti aperti, no, quella che è la collocazione di Joyce ecco, però penso che forse questa loro collocazione di scelta di, come dire, di eccentricità scelta sia forse il punto da cui ripartire il punto da cui ripartire poi oggi perché insomma quello che l'uno quello che si sono detti l'un l'altro che hanno detto l'uno dell'altro allora lo sappiamo ma forse è rileggendo oggi quelle parole o oggi o fra vent'anni o vent'anni fa cioè le parole che l'uno di soprattutto che Woolf dice su Joyce le leggiamo in modo diverso oggi rispetto a vent'anni fa e rispetto poi forse le leggeremo anzi sicuramente le leggeremo in modo diverso fra vent'anni ecco, quindi io la chiuderei così non cercherei di tirare per la giacchetta l'uno o l'altro anche perché appunto la cosa interessante poi di entrambi è che entrambi hanno creato un seguito come dire, quasi quasi, come dire sono dei gruppi che è bellissimo perché hanno ancora un grande seguito ma appunto è quasi come fossero a volte si ha l'impressione che è quasi come se fossero due fazioni e invece c'è per me quello che possiamo riscoprire appunto attraverso questa loro posizione di eccentrica attraverso il modo in cui hanno deciso di scelto anche di esprimerla è capire quanto della loro idea della letteratura contemporanea contemporanea loro sia qualcosa che derivava da loro vedute che poi sono diventate universali proprio perché questi due autori hanno un seguito enorme quindi soprattutto nel caso di Woolf per esempio ha scritto tantissimo sui propri contemporanei o sulle persone sugli scrittori che l'avevano preceduta di poco e prendiamo il suo come dire spesso si tende a prendere quello che lei ha detto come per insindacabile lo stesso per Joyce che non si è espresso magari tanto nella scrittura saggistica e che però lascia come dire nell'Ulisse in modo diverso nel Wake lascia come dire intro a vedere come dire dei giudizi delle prese di posizione che sono assolutamente sacrosante che però poi proprio per il tipo di seguito che si è creato si tende a cristallizzare un po' invece sarebbe bello metterli rimetterli in circolazione anche a distanza di cent'anni perché in fondo sono due autori che forse anche questo appunto sono due eccentrici per scelta in modo diversissimo in condizioni diversissime questo innegabile sono nati e morti a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro gli stessi anni e quindi hanno avuto esattamente la cosa molto interessante è che poi hanno guardato le stesse cose negli stessi anni e forse è proprio su quelle cose che dobbiamo oggi puntare lo sguardo cioè su quello che guardavano tornare agli autori magari meno conosciuti oggi di cui invece contro cui si scaliavano che invece avevano cari per capire qualcosa in più di loro e non dalle loro parole Sì e io a questo punto approfondirei proprio un aspetto che stavi toccando tu adesso parlando di di questi due autori ovvero parlando di luoghi luoghi dove erano nati quindi le città le profonde diversità di queste città e anche i punti in comune che poi riusciamo ad avere vedendo la struttura delle loro opere adesso leggo un altro un altro passo del tuo libro Clarissa Dalloway esce per comprare i fiori fa un lungo percorso per le strade di Westminster ricostruito nel dettaglio con tanto di mappe accluse a ogni edizione del romanzo camminare per lei vuol dire pensare mettere il proprio corpo con le sue sensazioni e mediare tra interiorità e esteriorità euforia e disforia appena uscita di casa Clarissa gioisce del solo fatto di essere per strada a Londra è una città in cui le vicende individuali e contemporanee si intersecano sulla mappa con l'origine del mondo e della storia ecco questo chiaramente non può non farci pensare a Leopold Blum che esce e va in giro per una città profondamente diversa che è Dublino però insomma non si può non pensare a questo punto in comune a questa avventura che si svolge nell'ambito della stessa città un'avventura topografica quasi in entrambi i casi ecco modernista di quel periodo sì penso che certo sia come dire è una coincidenza nel senso etimologico nel termine nel senso che i due appunto posizionano i loro personaggi in una posizione coincidente no? cioè in mezzo alle strade di due metropoli perché sia Londra che Dublino sono completamente diverse con dei rapporti di potere all'interno proprio delle due città molto diverse e la cosa interessante dei due è che appunto tutti e due riescono a dare come dire attraverso questa camminata del loro protagonista riescono in verità del loro protagonista ma dei due protagonisti perché ogni romanzo ha almeno due protagonisti cioè Ulisse abbiamo Stephen e Bloom e questi camminano in modo diverso e nel in Mrs. Dalloy abbiamo Clarissa e Septimus e appunto entrambe queste coppie di protagonisti riescono a come dire restituirci cioè attraverso le camminate di questi due protagonisti ci viene restituita quella che è la complessità sociale di quelle due metropoli in un momento storico anche qui poi diciamo trattato in modo diverso ma il momento storico è quello che va dalla prima dal subito prima al subito dopo il conflitto mondiale per 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 Joyce ovviamente come dire se guardiamo il romanzo un po' prima ma sono i primi vent'anni del novecento che in cui è veramente cambiato il mondo e tutti e due riescono attraverso queste coppie di personaggi e tutta un'altra serie di personaggi che cammina e si muove con loro a restituirci quelli che sono stati i grandi cambiamenti nella capitale di un impero come dire come Londra o in quella capitale come dire in cui convivono primo e terzo mondo come si diceva una volta che è Dublino però è proprio come dire il contesto urbano senza il quale questi due romanzi non esisterebbero però il contesto urbano nel quale è possibile ritrarre no sia due personaggi completamente diversi che però guarda caso poi i cui destini si intrecciano sia proprio un intero corpo sociale questo Wolf lo dice molto bene dice io voglio voglio dare conto dell'intero corpo sociale e davvero davvero lo fa in Mrs. Dalloway e lo fa molto bene anche lo fa molto bene anche Joyce con altri mezzi quindi io penso che sia un modo di di collocarsi in un contesto che è quello metropolitano che è il vero punto d'osservazione di una nuova società ed è come dire è un come dire è un luogo dove si gestisce molto bene il continuo di rivieni tra pubblico e privato e come dico appunto nel libro tra interiorità e esteriorità vorrei anche dire che Wolf appunto spesso vengono accostati Mrs. Dalloway e Lulisse in verità Wolf ha già scritto un romanzo in cui la città è una vera e propria protagonista che è Jacob's Room uscito nel 22 tra l'altro ritradotto è uscita la nuova traduzione all'inizio di quest'anno è una bellissima nuova traduzione firmata da Nadia Fusini e per chi conosce Londra forse è meno come dire enfatico è meno esplicito nel collocare Londra subito al centro della scena ma in verità per chi conosce Londra Jacob's Room e per chi vorrà conoscerla attraverso gli occhi di Wolf che è forse il modo migliore per conoscere Londra Jacob's Room è un vero e proprio può essere benissimo letto come un Londonovo certo che c'è ancora una come dire una dialettica tra quella che è Londra è quelli che sono altri luoghi molto più che in Mrs. Dalloway in Mrs. Dalloway ci sono questi altri luoghi sono evocati però poi appunto abbiamo la cartina ma in Jacob's Room invece questi luoghi sono veri e propri luoghi dove si svolge parte dell'azione però è già un romanzo urbano dove quello che poi verrà portato a compimento o meglio sviluppato ulteriormente in Mrs. Dalloway è ben presente Sì e io a questo punto penso che sia quasi immediato una volta che si parla del luogo parlare anche dell'unità di tempo quindi dopo quella di spazio metto adesso un po' di carne al fuoco leggo altre altre citazioni dal tuo saggio l'elemento che conferisce coesione alla signora Dalloway è l'unità spazio-temporale poiché la vicenda si svolge in una sola giornata e in un solo luogo ambientato a Londra un mercoledì di metà giugno 1923 poco più in là leggo anche per quanto riguarda tra un atto e l'altro la vicenda si svolge nell'arco di 24 ore inizia una sera del giugno del 1939 quindi questo parlando di date e poi aggiungo anche altri due spunti interessanti per lasciarti poi la parola sul discorso tempo ovvero sul fatto che l'ordito spazio-temporale del romanzo la signora Dalloway è caratterizzato dall'interazione fra il tempo monumentale e il tempo interiore il primo scandito dai rintocchi del Big Bang e il secondo dai ritmi del ricordo da un lato dal contrapunto tra una mappa ben precisa delle strade di Londra e l'indefinitezza degli spazi trasfigurati dall'altro e ancora qui parlo qui leggo qualcosa che riguarda le onde si tratta di scrivere una vita intervenendo profondamente sull'ordine del tempo e quindi del discorso sulla parca cronologia degli eventi narrati si innesta una temporalità di ordine diverso dal ritmo ciclico delle onde ma anche degli elementi naturali in quanto ogni capitolo corrisponde a un'ora del giorno beh qui sono tante le cose su cui ci sarebbe da soffermarsi su questa struttura spazio-temporale che non può chiaramente non riportarci anche a pensare a quella dell'Ulisse anche quella storia narrata sempre nell'arco di un giorno sempre fra l'altro poi in metà giugno quindi probabilmente a quell'epoca c'era una prevedizione per le giornate primo-estive e con questo orario che viene in qualche modo scandito anche nel caso dell'Ulisse avevamo questi schemi che venivano proposti ai suoi amici intellettuali e niente ecco lascio a te perché ho già messo veramente tanta carne al fuoco sul discorso tempo sì beh il tempo è la come sappiamo la questione diciamo anche filosofica che si pone all'inizio del novecento cioè la propria la vera e propria concezione del tempo cambia no e quindi questo cioè sono due scrittori appunto coetanei che reagiscono in maniera se vogliamo simile a queste sollecitazioni certamente il tempo io trovo molto appunto utile la la divisione tra tempo monumentale e tempo interiore che appunto è stata proposta da Paul Ricoeur che è un filosofo e che dire cioè in Wolf il tempo monumentale è quello della dei luoghi ufficiali della città è quello che fornisce l'impalcatura nell'ulisse come ci dice il titolo è come dire è il tempo che va dal che parte dal nito e poi che invece viene viene calato nella contemporaneità cioè è una la sfera temporale dell'ulisse è completamente come dire è un continuo andi rivieni sui secoli mi sembra più interessante nell'ulisse mettere in luce più che appunto il fatto che si svolga in un giorno come la signora Dalloway appunto io penso che la giornata di metà giugno sia anche data dal fatto che come dire sia a Londra che a Dublino sicuramente a metà giugno si può andare come dire è plausibile che si cammini in altre stagioni non sarebbe stato così cioè quelle passeggiate quella passeggiata le ore di luce che permettono anche poi veramente di dilatare il tempo della giornata molto volgarmente prosaicamente è possibile è possibile a metà giugno per quanto riguarda Joyce ecco se Wolf riesce a veramente creare questa alternanza unica tra tempo interiore e tempo monumentale e quindi che riesce anche poi a darci due diverse esperienze della città che sono due diverse esperienze anche dal punto di vista di genere perché Wolf ha una camminatrice donna e uno camminatore uomo e l'esperienza proprio della giornata di queste due persone più tutti gli altri camminatori ma insomma sono sono anche come dire influenzate dal loro genere in Joyce penso che il discorso sul tempo sia molto interessante per quanto riguarda invece la compressione e la condensazione uso apposta questo termine che è un termine chiave per capire poi la poetica modernista un termine su cui lavora molto Pound la condensazione di alcuni eventi chiave della storia irlandese che come dire vengono dati per scontati no mi riferisco appunto a quello che succede subito dopo il 1904 e segnatamente nel 1916 dopo c'è Joyce scrive il suo romanzo in un arco temporale in cui la storia di Irlanda conosce delle come dire dei rivolgimenti senza pari no e come dire proprio la temporalità storica no la cronologia storica di quel 16 giugno in verità è molto più articolata e stratificata e uno dei giochi col lettore è proprio capire quello che lui come dire che viene già collocato nel romanzo senza che venga detto e che però è qualcosa che i lettori alcuni lettori avrebbero potuto avere benissimo in mente quindi penso che al di là come dire dell'interesse della sensibilità per la questione del tempo dei due autori che penso sia qualcosa che faceva parte del quello che Oden ha definito il clima di opinione no dell'epoca cioè sul tempo all'epoca si come si si rifletteva tantissimo è poi interessante vedere quali sono poi qual è il funzionamento delle diverse temporalità che convivono nel romanzo però andando appunto nello specifico della letteratura del linguaggio chiaramente perché soprattutto quando parliamo di questi autori qua leggo sempre un tuo passo qui si fa riferimento a Orlando si capisce come il confine tra realtà invenzione e gioco o la storia letteraria è decisamente poroso ed è nelle pieghe del testo che prendono forma la voce del narratore biografo da un lato e del soggetto biografato dall'altro sullo sfondo di un viaggio nell'immaginario della letteratura inglese da Shakespeare al novecento un altro passo che leggo invece si riferisce agli anni un romanzo collettivo collocabile accanto all'Ulisse di Joyce opere caratterizzate da una forte componente storica da reti di personaggi più che nuclei familiari o affettivi e da una tecnica narrativa affine al montaggio cinematografico che tenga insieme diverse situazioni nello stesso momento Virginia Woolf immagina che nel futuro questo è un altro passo successivo possa esistere una società senza classi che quindi il romanzo inglese per come l'abbiamo conosciuto non avrà più ragion d'essere ecco ci sarebbero anche qui tante cose da approfondire e dire quello che volevo chiederti qua era intanto ecco per quanto riguarda Orlando se si può ecco qui fare un parallelismo fra il romanzo di Woolf tra la struttura di questo romanzo di Woolf e quello che può essere anche quella ricostruzione che fece Joyce nel quattordicesimo episodio di Uisse Mondri del Sole dove anche lì l'autore ripercorreva secoli di letteratura imitandone gli stili e giocandoci e poi c'è anche questo tema fondamentale ovvero una letteratura che con il superamento della forma del linguaggio segua anche il superamento delle forme sociali una cosa un aspetto a cui Joyce penso era molto sensibile leggevamo nell'Ulisse quando Bloom era un po' trasfigurato un episodio di Circe appunto questo pensare a mondi nuovi a rimpiazzare i vecchi uno stato laico chiesa libera e quindi di conseguenza anche un linguaggio nuovo che poi insomma andrà per le sue vie nel super linguaggio del Finegan's Wake ecco lascio a te un po' di riflessione sulla letteratura e sul linguaggio come pensi tu sì beh un po' come dire anche questo gioco con la storia letteraria e con gli stili letterari è un gioco per me tipicamente modernista cioè lo troviamo in Joyce lo troviamo in Wolf in Orlando ma non solo lo troviamo anche però in Pound lo troviamo in Elliot e appunto è è un diverso modo di fare quello che Elliot dice alla fine della terra desolata cioè con questi frammenti ho puntellato le mie rovine è un modo di come dire ragionare sul fatto che dopo soprattutto dopo la grande frattura della prima guerra mondiale che è davvero lo spartiacque no? per questi scrittori non sia più possibile scrivere in un certo modo e però come dire la letteratura e la letteratura come è stata ci aiuta può aiutarci a capire allo stesso tempo a capire il passato e a collocarsi nel presente e io penso che quindi questi questo diverso gioco che poi questi quattro autori fanno e probabilmente lo fanno anche altri autori coevi sia come dire simile fatto in modo diverso per quanto però per me poi la la similitudine si ferma qua nel senso che in Woolf in Orlando la cosa straordinaria è il suo come dire giocare in maniera davvero sovversiva con quello che è l'eredità della letteratura inglese l'eredità di alcuni modelli di alcune trame e collocarvi sempre e qui nasce anche per me il lavoro più che sulla lingua cioè sulla lingua sicuramente perché sia Joyce che Woolf poi quando fanno questi esperimenti dimostrano di avere una conoscenza enorme di quelli che sono poi gli stili la lingua e lo stile si direbbe della letteratura inglese in Woolf però c'è proprio un lavoro sul linguaggio che è come dire nel momento in cui noi anche parodicamente anche in una parodia mettiamo in luce quelli che sono stati i limiti di alcune trame di alcune narrazioni e a quel punto come dire dobbiamo anche trovare il modo di raccontare alcuni episodi in modo diverso e questo è un continuo gioco cioè in Orlando veramente è un personaggio che cambia appunto da uomo diventa donna e come dire e si ricolloca si ricolloca e ha o meno il diritto di dire le cose in un certo modo cioè Woolf rispetto a Joyce pone come dire una questione cruciale che ancora oggi è assolutamente aperta che è quella dell'uso della lingua ma anche della costruzione di alcune narrazioni nel momento in cui al centro di queste narrazioni ci sono dei personaggi femminili che poi personaggi femminili è una brutta definizione comunque dei personaggi che all'epoca Woolf chiama donna e che con la loro differenza dicono e costruiscono il mondo in maniera diversa non a caso Woolf quando scrive Orlando ha in mente di scrivere un libro alla Defoe e Defoe è un autore che lei ama tantissimo sarà Woolf questa è una cosa che hanno in comune Woolf e Joyce cioè Woolf e Joyce sono tra i grandi diciamo riscopritori e interpreti di Defoe all'inizio del ventesimo secolo e questo non è un caso cioè qui veramente quando all'inizio dicevo conviene guardare gli autori che loro hanno guardato per farci dire qualcosa di Joyce e Woolf più che tornare che fidarci della loro parola in maniera quasi no fideistica entrambi vedono qualcosa in Defoe entrambi tornano a Defoe che più o meno ha diritto però sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale è stato indicato come il padre del nuovo bene se Joyce tutti e due conoscono molto bene Robinson tutti e due tornano però anche a un romanzo di Defoe che era rimasto come dire nell'ombra che è Amol Flanders come dire che era famosissimo ma che nella sua versione originale aveva circolato molto meno di Robinson Crusoe perché è un romanzo è un romanzo molto più scomodo da un certo punto di vista del Robinson proprio per la presenza di questo personaggio femminile Woolf dedica un saggio fondamentale era un saggio che doveva segnare che le era stato commissionato per celebrare il bicentenario dell'uscita del Robinson e invece Robinson che li guida in pochi paragrafi dicendo è stato sempre con noi come Omero per caso come dire Omero che appunto è Defoe che è il nuovo se vogliamo qualcosa che per noi moderni che vivono nel ventesimo secolo ha quasi ormai ovviamente lei azzarda questo parallelo però l'impatto di Omero ma dice poi però passa a parlare di Molflanders e la sfida che come dire vediamo in Orlando è anche ridare forma a quel tipo di narrazione che è iniziata con il novel e quindi con Robinson Crusoe e con Molflanders ma mettendo a fuoco quelli che sono le categorie di sesso e genere e quindi dando effettivamente parola cioè provando sul campo certo all'interno di una parodia e tutta qual è la possibilità e quali sono le aspettative di una donna che prende la parola che prende la parola nel settecento sia come autrice sia come personaggio che prende la parola poi nell'ottocento nel novecento quindi è quello il carattere dirompente io penso di Orlando Joyce fa un'operazione di tipo a mio parere completamente diverso cioè In Oxen of the Sun cioè Nelle Mandere del Sole lui certamente riprende la letteratura inglese ma poi Joyce più che sulle su quelle che potremmo definire quello che potremmo definire l'orizzonte di attesa definito poi da certi generi e da certe convenzioni letterarie prende un'altra strada che è quella poi invece del come dire di una di un rompere i confini del linguaggio che poi insomma dalle Mandere del Sole si arriva facilmente a fine Guns Wake in un certo senso e quindi tutti e due hanno bisogno di rompere qualcosa che è dato ma di romperlo ma anche di farne come dire un museo da cui non vorrebbero uscire un museo ovviamente non inteso in senso istituzionale ma un museo è una raccolta più che un museo ecco di parole di storia che è la letteratura inglese in cui hanno ovviamente dei rapporti molto diversi perché il rapporto di Wolf con la letteratura inglese era quella di un inglese figlia di un grande critico letterario a cui fa il verso in Orlando e Joyce era invece un irlandese però con quella letteratura inglese entrambi fanno i conti ed entrambi la amano tantissimo a prescindere poi dal significato che ha per ognuno ed è per ognuno in modo diverso stata anche una letteratura che ha raccontato l'oppressione ha raccontato l'oppressione delle donne ha raccontato l'oppressione del popolo irlandese eppure è da lì che partono perché quello è la loro diciamo è il loro modo anche di conoscere il mondo però la cosa bellissima è che entrambi non prendono la letteratura come un sapere enciclopedico attraverso cui interpretare il mondo e quindi non scrivono romanzi che sono solo divertismon letterari ma fanno interagire questa bellissima come dire questa loro consuetudine ecco con le parole della letteratura inglese con quelle che sono state le narrazioni della letteratura inglese sempre attraverso poi il movimento dei personaggi perché ricordiamo appunto si muove Leopold Bloom si muove Stephen cioè queste parole tornano nel momento in cui comunque i personaggi attraversano uno spazio e un tempo di quella giornata o appunto in Orlando abbiamo come dire la cosa opposta che però tanto valgono cinque secoli quanto un giorno come unità temporale di un romanzo cioè se i cinque secoli allargano in maniera inverosimile quello che può essere lo spazio di un romanzo beh il giorno solo lo dilata in maniera inverosimile e quindi quel loro rapporto con la letteratura inglese viene come dire riversato nella realtà viene riversato nella realtà un modo di attraversare la realtà anche Orlando si muove tantissimo viaggia si muove proprio il movimento è un tema fondamentale in Orlando anche come si può muovere un personaggio diversamente attraverso i secoli anche quella è una delle domande a cui Orlando risponde beh certo e poi fra l'altro avevi toccato è quasi inevitabile toccarlo il tema per esempio del quindi non solo della compenetrazione fra i generi tra i generi letterari ma anche fra i generi maschile e femminile e fra i personaggi tutti per esempio leggo Wolf si muove volutamente al confine tra maschile e femminile delineando una compenetrazione dei due generi poco importa che si realizzi nella trasformazione di Orlando all'insegna della performance di un genere o l'altro o nella mente androgina di una stanza tutta per sé o nel monologo che conclude le onde affidato a un solo personaggio del romanzo che tuttavia contiene all'interno anche gli altri così come poi ci sono degli spunti per quanto riguarda ecco un passaggio interessante secondo me chi parla è una domanda che i lettori di Wolf si pongono spesso ma è forse proprio questo il fascino elusivo della sua scrittura perché si tratta di un discorso indiretto libero mai aderente alle cadenze della rappresentazione realistica bensì virato sempre verso una dimensione altra trasfigurata una possibilità di rappresentare più punti di vista alla volta e anche qui insomma ci sarebbe da argomentare nel senso che intanto sono due scrittori una femmina e un maschio che però tentano assolutamente spesso e volentieri di di superare questo confine di non demarcare Joyce insomma non dimentichiamoci che la voce conclusiva è definitiva dell'Ulisse è femminile quella di Molly Bloom abbiamo anche un episodio in cui Leopold Bloom cambia sesso e partorisce e poi nello stesso tempo anche in Joyce troviamo questa compenetrazione dei personaggi non solo verso la parte finale di Circe dove c'è questa dimensione allucinata onirica etilica sostanzialmente ma anche fin dall'inizio Stephen Dedalus dice lui c'è moi ecco lascio a te anche uno spunto in più su questo aspetto quindi passando dalla letteratura ai personaggi poi sì anche qui bella domanda appunto cioè diciamo che in Joyce per me quelle che sono le possibilità del linguaggio di rappresentare la realtà vengono poste chiaramente nel settimo capitolo in Eulo dove parlano anche le macchine dopo il famoso slit delle rotative si dice ogni cosa parla a modo suo no everything speaks its own way e quindi in Joyce c'è come un'impossibilità di ricondurre a un punto di fuga quella che è quelle che sono quella che è la voce di un narratore che chiaramente capisce di non poter più controllare la materia narrata ma anche un punto di fuga semplicemente dal quale vedere e dico volutamente vedere le voci dei personaggi dico vedere perché se da un lato la voce la sentiamo dall'altro il discorso in diretto libero è una tecnica narrativa che nasce il discorso in diretto libero che appunto Joyce e Woolf usano in maniera completamente diversa però è una tecnica che nasce è una tecnica narrativa che non nasce emerge non è che nasce è una possibilità del linguaggio che comincia a essere sfruttata nel momento in cui si cominciano a scrivere romanzi modernamente intesi e quindi che rappresenta non riproduce rappresenta il parlato o rappresenta i pensieri e quindi proprio un punto di fuga la prospettiva da cui vedere queste voci che cosa vuol dire vedere queste voci se in Joyce abbiamo una composizione che in ogni capitolo prende una conformazione diversa in Woolf abbiamo un tessuto testuale all'apparenza molto più omogeneo cioè se pensiamo almeno a i due romanzi di Woolf più celebri forse che sono Mrs. Dalloway e To the Lighthouse quindi Mrs. Dalloway e Alfaro vediamo come appunto è come se sentissimo una come dire sola voce però appunto da un lato ci sembra di sentire una sola voce all'interno della quale poi in maniera quasi uniforma in inglese si direbbe seamlessly senza che si vedano le cuciture convivono diverse voci diversi punti di persone in Joyce questo non avviene eppure appunto io penso che siano due modi diversi per questo ce l'ha insegnato Auerbach nel bellissimo saggio il calzerato marrone contenuto in Nimesis il suo libro diciamo la sua opera sul realismo un saggio ormai che ha quasi 70 anni ma che anzi quasi 80 anni ma che continua ad avere una validità enorme e beh sono due modi di di comporre di comporre quelle che sono quelli che sono diversi punti di vista e qui torniamo alla alla prospettiva e sono due modi anche di mostrare come la parola del romanzo anche quando è volutamente virata verso un'oralità no? come in Joyce la riproduzione di una musicalità di un'oralità in verità è una parola stampata e in cui c'è la coscienza proprio che come dire raccontare qualcosa non si è più come dire raccontare e affidarla una sola voce un solo punto di vista ma creare questa tensione tra il racconto che nasce come racconto vocale ma che intanto si è trasformato e la visione ed è qui che c'è questo incontro poi e non a caso appunto Eolo è un capitolo che è ambientato in cui appunto vediamo vediamo in chiaro quella che è la funzione dei caratteri mobili e della composizione allora Joyce sceglie di giocare di farle vedere tutte le cuciture anzi di scriverci sopra anche cuciture e questo non in senso come dire di dascalico anzi ma di come dire di portare all'estremo di portare sempre al paradosso quelle che sono le possibilità del linguaggio tra stampa e voce tra visione e ascolto mentre un wolf ci dà l'illusione no? come dire è l'illusione di pagine intere scritte in discorso in diretto libero dove quindi abbiamo una terza persona apparente che tiene insieme tutto ma in cui appunto poi ci sono delle zone in cui convivono diversi punti di espressività no? e che quindi in cui poi questi diversi punti di espressività creano tensioni conflitti e in cui si compongono poi le diverse voci si compongono si scompongono senza mai trovare una una risoluzione alle diverse voci del romanzo e io vorrei man mano che ci avviciniamo alla conclusione di questa di queste riflessioni volevo toccare gli ultimi due aspetti fortemente concatenati fra di loro ero septanatos quindi amore e morte prima facciamo amore poi chiudiamo con la morte giustamente ecco per quanto riguarda l'amore ancora urlando qui in quel momento batte il dodicesimo colpo della mezzanotte di giovedì 11 ottobre 1928 la data è quella del compleanno di vita sacri west amica e amante di wolf tra vita e letteratura si crea così un cortocircuito volutamente esplicitato in uno scambio di lettere fra le due amiche non da ultimo il fatto che si tratti di una biografia si capisce come il confine tra realtà invenzione sia decisamente poroso ecco qui questo è un aspetto da non trascurare nel senso che anche in Ulisse sappiamo che questa data nel 16 giugno effettivamente è quella del famoso incontro del primo incontro ufficiale d'amore fra Nora e James e quindi sembrerebbe tra l'altro poi famosi Nora e James anche per i loro scambi epistolari sembrerebbero quasi inscindibili le opere di Woolf e Joyce dalle loro vicende non solo biografiche ma proprio sentimentali sì sicuramente lo sono perché sono forse dirò un'obvietà ma insomma sono le vicende che che ti collocano in una posizione diversa da quella in cui ti trovavi io penso che però la cosa molto bella sia in Joyce che in Woolf in Woolf in particolare cioè in Woolf forse qualcosa che sentiamo di più però è veramente nessuno dei romanzi di Woolf è un romanzo d'amore nessuno dei romanzi di Joyce è un romanzo d'amore ma proprio perché come dire questa idea dell'amore viene anche lì fatta esplodere e quindi ci sono come dire c'è l'amore c'è l'amore come viene può essere concepito romanticamente come è stato raccontato dalla letteratura questo si vede bellissimo in Woolf e poi ci sono modi nuovi di raccontare l'amore da parte di soggetti che forse non hanno avuto voce per raccontarlo io penso che anche il monologo di Molly sia da leggere anche ovviamente non solo in questo senso cioè è la parola di Molly e quindi io penso che l'amore ci sia anche se ovviamente nessuno di questi romanzi nessuno dei romanzi di Woolf cioè in alcuni romanzi di Woolf c'è l'amore per qualcuno per esempio l'amore per la Siona Dallow che è quello di Peter di Peter Walsh che è il suo ex innamorato è quello di Sally però c'è sempre come dire ci sono sempre diverse persone che amano e che desiderano in modo diverso io per parlare di amore dobbiamo parlare anche di desiderio e quindi l'amore con la maiuscola e nessuno di questi romanzi narra una storia d'amore nessuno di questi romanzi ha una trama che come dire che è impergnata su una storia d'amore ovviamente c'è anche la morte la morte è onnipresente Joyce è la morte per acqua è una morte che alleggia intorno a Blum così come intorno a Stephen e della morte che per povertà e per i media che minaccia per esempio in Le Strigoni gran parte della popolazione irlandese in Wolf la morte è ovunque nel suicidio di Septimus è nella morte della signora Ramsey nel Faro e nella morte di Percival che è il centro e la morte di Jacobs che insomma ogni romanzo parte da come dire una morte una morte che è quella attraverso cui poi in un certo senso si guarda la vita ecco io penso che sia questo si guarda la vita e la vita e si guarda anche quindi come dire l'amore se così vogliamo chiamarlo anche se poi questa vera l'amore andrebbe scomposta in mille aspetti ed è quello che fanno sia Joyce Wolf scomporlo cioè in un certo senso un'operazione che in modo diverso in modo diverso fanno entrambi la cosa interessante è che tutti e due certo hanno come dire esperienze letterarie di gioventù ma sono due scrittori della maturità cioè sono due scrittori che raggiungono il successo in modo diverso per vie diverse ma che come dire la cui scrittura raggiunge una maturità e una e finalmente no sfonda quando questi due scrittori sono intorno ai 40 anni ecco questo è indicativo cioè del del fatto che a 40 anni si sa benissimo come appunto e si riesce anche a come dire la convivenza di amore e morte sono qualcosa che ci accompagna fin dall'inizio dei nostri giorni no cioè nel senso una commissione però a 40 anni forse la si guarda in modo diverso e io penso che non sia un caso che tra l'altro eh tutto il modernismo è in verità un movimento se così lo vogliamo chiamare comunque in cui come dire non di giovani non di scritture giovani ecco in cui quindi si ha già come dire quelle per tornare alle rovine eliotiane frammenti e le rovine è il momento in cui si cominciano a vedere queste rovine sono rovine che ci portiamo dentro è quello che ci insegna Ulisse no per cui in un in ogni giorno della vita ci sono tutti i giorni a venire non è che come dire però forse proprio è sono scrittori che raggiungono un certo no no che fioriscono veramente quando riescono anche a trovare quella distanza e riescono anche a trovare quella distanza e ad avere una diciamo un'esperienza coscientemente complessa di quello che è l'esperienza dell'amore e della morte io a questo punto chiuderei e mi piacerebbe farlo con un paio di frasi che mi piace accostare una di un autore una dell'altro di buon auspicio sulla mente una è tratta dal nono episodio dell'Ulisse quello intitolato a Cile Caridi l'episodio della biblioteca di Steven dove leggiamo questa frase molto bella mi è sempre piaciuta molto Steven rise per liberare la mente dalla schiavitù della propria mente e mi è sempre piaciuta accostarla invece a quell'altra frase che Bernard nelle onde di Wolf recita così lanciai la mente nell'aria come il contadino sparge a ventaglio i suoi semi ecco insomma con la speranza che possiamo avere anche noi lettori insomma di questi autori qua modo di ritrovare ogni giorno ecco questa mente sempre un po' più libera aperta un po' come questi due autori importanti che oggi abbiamo voluto grazie a te ricordare rievocare un po' anche accostare è chiaro che ci sarebbe tantissimo da dire però abbiamo detto hai detto cose molto interessanti e non so proprio come ringraziarti di questo grazie a te se no come minimo mostrando nuovamente questo libro da cui ho tratto tutte le le citazioni che ho letto ma leggetevelo tutto leggere Wolf Carroccio Editore e leggete soprattutto Wolf e Joyce ovviamente esatto da usare come strumento e trampolino per avvicinarsi a questi questi autori a noi ancora molto vicini volendo grazie Sara grazie davvero grazie ciao ciao ciao